lo schiaffo è stato improvviso e disarmante ma i cittadini devono saper reagire ne è convinto il gruppo parlamentare del movimento 5 stelle dopo che dalle carte dell'inchiesta sugli appalti di expo 2015 è emerso che nel mirino della cupola finita in carcere c'era anche la sogin l'azienda statale che opera nello smantellamento degli impianti nucleari presente anche a caorso in provincia di piacenza ed è stato proprio un appalto da un miliardo e mezzo di euro a finire nelle intercettazioni al vaglio della procura di milano diversi gli articoli pubblicati dai maggiori quotidiani nazionali anche se il più dettagliato è quello riportato da la stampa negli stralci delle intercettazioni telefoniche il nome del sindaco di caorso fabio callori compare diverse volte mentre dialoga con alcuni dei principali indagati di quella che viene definita la cricca che stando alla tesi accusatoria avrebbe puntato agli appalti del nucleare tra questi faccendieri finiti poi dietro alle sbarre frigerio e greganti secondo quanto riportato dal quotidiano torinese sarebbe stato chiesto l'aiuto del primo cittadino caorsano al quale sarebbero stati accordati dei favori politici in cambio fabio callori avrebbe dovuto intralciare le richieste avanzate dai nuovi amministratori di sogin insomma per caorso si tratta di una pagina oscura e a tratti inquietante che i deputati del movimento 5 stelle chiariranno ora direttamente in parlamento io innanzitutto come cittadino sono stufo e con me milioni di cittadini perché per l'ennesima volta sulla nostra pelle sulla nostra salute si giocano i loro interessi e le intercettazioni sono una dimostrazione basta basta hanno fatto di tutto sulla nostra salute abbiamo dei tassi di mortalità che sono veramente pazzeschi i reati ambientali sono reati mafiosi e devono smetterla di giocare con la nostra salute per i loro interessi economici quindi noi procederemo anche a livello parlamentare con un'interrogazione in modo da fare ancora più chiarezza e portare alla luce tutti questi episodi che stanno distruggendo le nostre vite non esprimono rabbia o delusione i referenti caorsani del movimento 5 stelle che invece trasformano la vicenda giudiziaria nell'occasione di pretendere la massima chiarezza entro il voto amministrativo del 25 maggio la difesa formulata da callori infatti secondo cui quanto emerso è solo un attacco al suo operato decennale di sindaco non è sufficiente a liquidare una situazione ben più complessa e controversa beh mi sembra una cosa molto vecchio stile no quella di gridare al complotto quando poi ci sono delle intercettazioni e ci sono dei dati che dimostrano che c'è come sempre un interessamento economico allora si assumono le loro responsabilità noi procederemo perché vengano assunte le loro responsabilità e chi sbaglia e continua a sbagliare paghi è da anni che noi denunciamo il fatto di una politica poco chiara a caorso e nel rispetto dei cittadini il sindaco entro il 25 maggio dovrà chiarire la sua posizione perché a caorso non può andare alle elezioni così grazie a tutti grazie a tutti